Grazie a tutti perché siamo veramente in tanti, noi siamo qui e i nostri colleghi le notizie che ci arrivano dal nord al sud, da tutte le regioni d'Italia ci dicono che la chiusura è una chiusura massiccia per cui la presenza di una categoria che vuole difendere i propri diritti c'è e ci sarà, complimenti! Non è accettabile che non vengano rispettate le regole, abbiamo leggi che dicono che gli accordi con le compagnie petrolifere devono essere fatti, le compagnie petrolifere non solo non li fanno ma non li rispettano nemmeno ed è inaccettabile e questo andremo a dirlo al Presidente della Camera, non è accettabile che una legge dello Stato ci togga gli oneri sulle carte di credito, oneri che noi abbiamo, Martino diceva noi paghiamo le tasse, noi non solo le paghiamo, noi le riscuotiamo anche le tasse, facciamo gli esattori per lo Stato e non è possibile pagare oneri a favore delle banche che non rispettano la legge e sono d'accordo con voi, per cui adesso noi andremo dal Presidente della Camera perché i diritti che abbiamo conquistato non ce li ha regalati nessuno, ci li siamo conquistati e sono stati ratificati da leggi dello Stato e noi queste leggi vogliamo che siano rispettate, per cui questa giornata dà la prova che la forza ce l'abbiamo, ce l'avremo, non è finita e andiamo avanti!